Ministra Bonetti, domenica sera il suo collega all'istruzione, Patrizio Bianchi, diceva siamo stati costretti a chiudere le scuole per via di questa variante inglese che aggredisce i ragazzi. Non teme che sia un azzardo riaprire le scuole se la variante inglese non è ancora debellata? Buongiorno, in realtà qualsiasi decisione sta prendendo questo governo, io apprezzo con particolare convinzione questo metodo, è fatta sulla base di dati scientifici ma anche sulla predittività che si può dedurre da questi dati. Quando la variante inglese ha iniziato a avere il sopravvento nella diffusione epidemiologica, se lo potrà dire meglio il dottor Pregliasco, certamente di me, i dati hanno certificato una diffusione maggiore rispetto alle stagioni precedenti anche nella popolazione infantile. Quindi in via prudenziale abbiamo chiuso tutti i livelli scolastici. Sembra, e stiamo valutando questi dati, che l'incidenza nella popolazione scuola dell'infanzia e scuola primaria, fino insomma alla prima media, possa però invece essere ascritta a non certo una crescita esponenziale. Ciò cosa significa? Che dopo la chiusura che abbiamo portato avanti nelle zone rosse, se la vaccinazione va avanti, quindi si abbassa il numero della popolazione potenzialmente contagiabile, e se ovviamente come sembra essere i dati stanno rispondendo ad un superamento del picco, del massimo livello dei dati, arriveremo ad un punto della curva epidemiologica rispetto alla quale la riapertura di quelle scuole, io ho fatto una simulazione con un gruppo di ricerca con cui collabora il mio dipartimento del Politecnico di Milano, sembra che questa incidenza sia effettivamente pressoché irrilevante. Accanto a questo però c'è anche un altro tema. Arriviamo, immagino che lei parli anche di quello che è il sostegno delle famiglie che hanno i figli a casa. Tra poco ci arrivo, ma stiamo subito.